Buongiorno, sono Medardo Chiapponi, direttore del corso di laurea magistrale in design dello UOV e la startup, lo spin-off, ma anche giusto il termine startup, nel senso che la forma giuridica è quella di una startup innovativa che stiamo per attivare, andremo oggi pomeriggio dal commercialista, si chiama New Design Vision e si occupa di utilizzo del design, detto in maniera molto sintetica, per l'innovazione di imprese, prodotti e servizi. È una startup che nasce dall'esperienza di docenti e di ricercatori nei corsi, in particolare nei corsi di laurea magistrale di dottorato di design e nasce come spin-off universitario, quindi con una presenza dello UOV che ha un 10% della nostra partecipazione, della nostra società e che avrà un membro nel consiglio di amministrazione. Gli altri soci, oltre a me, che sono il proponente di questo spin-off e lo UOV, sono altri colleghi docenti, Laura Badalucco, Massimiliano Ciammaichella, Barbara Pasa, ricercatori come Luca Casarotto e assegnisti come Andrea Ciotti e Pietro Costa. Quindi non sono degli studenti che danno vita a uno spin-off, ma sono docenti e ricercatori. Però il rapporto con gli studenti è molto forte ed è una delle ragioni principali per cui abbiamo deciso di costituire questo spin-off, nel senso che nei corsi, nei laboratori progettuali, nelle tesi di design. Molte volte abbiamo visto uscire dei prodotti, delle proposte di prodotti, dei progetti di prodotti, ma anche di design della comunicazione, quindi interfacce e altro, che meritavano e meritano di essere realizzati e di essere sviluppati per andare alla produzione e alla commercializzazione. Tanto che molte volte, quando facevamo mostre o altre esposizioni di questi risultati della didattica, molti ci chiedevano, ma questo lo troviamo in commercio oppure no. Dicevamo sempre non ancora, stiamo lavorandoci, però era un percorso che avevamo soltanto avviato e che soltanto adesso arriva alla sua conclusione naturale con la costituzione dello spin-off. In particolare i temi che vogliamo trattare sono, lo dico in maniera molto sintetica, due diligence rivolte alle imprese ma anche alle istituzioni per l'innovazione di prodotti e di servizi. Ci sono molte occasioni e necessità di innovazione, per esempio la crisi che stiamo vivendo ormai da diversi anni fa sì che alcune imprese che producono prodotti maturi debbano pensare a un cambio anche radicale di tipo di prodotti pur utilizzando il know-how e le tecnologie che hanno già a disposizione. Ecco, questo è un settore nel quale per esempio il nostro spin-off può aiutare le imprese a ragionare su quali prodotti innovativi possono realizzare, in particolare utilizzando tecnologie innovative dai sensori alle tecnologie digitali, eccetera, per innovare il tipo di produzione di un'impresa pur mantenendo, anzi valorizzando il know-how e le tecnologie che hanno a disposizione. Poi c'è un'altra attività che invece è quella di progettazione di prodotti e servizi innovativi, in particolare in alcuni settori che sono quelli di cui noi come docenti e ricercatori ci siamo occupati più approfonditamente. Mi riferisco in particolare al tema del social design, del design medicale, design per lo sport ma anche design attento alla sostenibilità ambientale, per esempio un design che progetti prodotti che producono una minore quantità di rifiuti anziché produrre rifiuti e poi trattarli. Altra attività è quella che dicevo all'inizio, cioè un'attività che consiste nel valorizzare, sviluppare progetti nati di design, nati nel corso della didattica e in questo senso il nostro, che non è uno spin-off che nasce su una singola idea progettuale ma su una pluralità di servizi, in questo caso, in questo senso può anche diventare una sorta di spin-off hub da cui possono poi derivare altri spin-off dedicati alla realizzazione, alla commercializzazione di specifici prodotti. Poi c'è tutto il tema delle innovazioni dal punto di vista del design della comunicazione, in particolare delle interfacce, dell'interazione. Abbiamo fatto recentemente, non ancora come spin-off perché non eravamo ancora costituiti, ma credo che possa avere poi degli sviluppi successivi, abbiamo progettato l'interfaccia della ricetta digitale della regione Veneto, anche questo per dare un esempio del tipo di cose di cui possiamo occuparci. Sì, questo è, credo che sia una delle peculiarità del nostro spin-off che non nasce da una singola, questo non dico anomalo, ma sono peculiari sicuramente sì, cioè non è uno spin-off che nasce da una singola idea progettuale ma nasce dalla volontà di valorizzare i prodotti di un settore didattico come quello del design, che è importante dentro la nostra università e che può dar luogo appunto a una molteplicità. Quindi noi in questo momento tra l'altro siamo il primo spin-off universitario con le nuove regole, con le nuove modalità, grazie anche al contributo, al sostegno che ci ha dato l'ufficio per il trasferimento tecnologico. E quindi lo sentiamo anche un po' come il nostro dovere, quello di poi prestare attenzione alle possibilità che nel campo del design ci sono per creare nuove spin-off, nuove start-up, questa volta magari dedicate alla realizzazione di una singola idea, di un singolo prodotto. Dopodiché è parte del modo di operare del design quello di collaborare con altre discipline, per esempio tutto il settore delle tecnologie e quindi anche delle tecnologie presenti nei nostri laboratori didattici e di ricerca. È un rapporto molto fruttuoso proprio perché noi non facciamo sviluppo e innovazione tecnologica, ma come file design applichiamo le innovazioni tecnologiche per ottenere prodotti innovativi. In questo momento, peraltro, grazie alle tecnologie digitali, alla combinazione di queste con sensori e altre tecnologie, ci sono possibilità dal punto di vista dell'innovazione di prodotto che non sono mai esistite prima. Non sono più le innovazioni, delle variazioni sul tema di una tipologia oggettuale già definita, ma sono la creazione di tipologie di prodotti completamente nuovi. Quindi si aprono veramente delle possibilità molto interessanti. Questo è quello che diciamo e cerchiamo di insegnare anche ai nostri studenti e quindi anche di far crescere in loro questa voglia di mettersi in gioco in prima persona. Come consiglio a un giovane, un neolaureato, un dottore di ricerca che voglia intraprendere questa strada di fare un'impresa per valorizzare, di inventarsi un mestiere sostanzialmente, mi sento di dire che fa bene a farlo se ha passione, se crede veramente in questa idea e se è disposto a rischiare, perché questa è una condizione indispensabile per poter avviare questa cosa. C'è da dire che nel settore del design, per fortuna, voglio dire, esistono anche altre opportunità di lavoro, quindi non è semplicemente il trovare un lavoro, ma è aprire una nuova attività di cui si sente veramente l'esigenza. Grazie per la visione! Grazie!